Ciao ragazzi, siamo i Mechanical God's Creation e volevamo invitarvi ai nostri prossimi appuntamenti. Al giorno Metal Fest il 18 di maggio a Predazio, provincia di Trento. E al Metal Queen's Burning Night il 25 maggio a Tropharello, provincia di Torino. E a Green Party il 20 luglio a Gazzaro, provincia di Milano. Vi affettiamo di noi. Alla prossima. Grazie a tutti i nostri prossimi appuntamenti.